e iniziamo con questo esperimento per me naturalmente che in verità abbiamo già iniziato da un po' con a pranzo con io tra l'altro ho già una fame che non ci vedo quindi saluto tutti i ragazzi in chat e dovrò fare questo tirone fino alle 3 prima di poter mangiare al meno che qualche buonanima non mi porte il pranzo qui mentre sto giocando stiamo vedendo naturalmente quello che vedete qui davanti a noi è mordor l'ombra di mordor la terra di mezzo l'ombra di mordor in versione playstation 4 allora in realtà sull'ombra di mordor veramente abbiamo fatto un sacco di roba ne siamo anche consapevoli dalla super diretta ai due long play serali con il buon stefano che saluto come sempre e che l'ha fatto vedere sia su pc che su playstation 4 rispetto però a quanto fatto da lui in questo caso mi mi andrò a concentrare il più possibile sulle missioni principali lui se non sbaglio è un po' cazzeggiato vi ha fatto vedere un po di di free roaming soprattutto invece cercherò di far vedere in questo in questo frangente cercherò di far vedere invece quello che è il single player anzi che la campagna vera e propria ne approfitto appunto di nuovo per salutare tutti i ragazzi che sono in chat io vi cercherò qui di seguire dalla dalla chat se ce la facciamo vediamo se riesco effettivamente a seguirvi qui nella chat no è come se non ci fosse nessuno di voi quindi io faccio finta in questo momento di essere completamente in solitaria e fate domande di quello che vi pare perché almeno così passiamo queste due ore proviamo a vedere cosa succede facendo così perché non mi ricalcola questi qui non capisco come mai bene molto comunque veramente ne abbiamo detto ogni cosa possibile non so se avrete notato che veramente ogni cosa si vada dire sul gioco lo abbiamo detto praticamente quindi non so quante ancora domande potreste avere su sul gioco diciamo però in casi proverò a rispondervi per quanto possibile allora andiamo a recuperare prima un po di energia un po di pianticella oggi dovrebbero stasera che long play subito chiedete mazza jones veramente stai avvelenatissimo a vedere me proprio eh stasera che long play dovrebbe esserci se non sbaglio questa sera non dovrebbe esserci nulla di long play se non ricordo male se non ricordo male però potrei ricordarmi male quindi segui sicuro dovresti trovarlo sul canale di twitch c'è il calendario preciso e perfetto per cui da lì dovrebbe già aiutarti a farti capire che tipo che cosa ci potrebbe stare il tipo mi vede non mi vede e hop mi ha fatto una cazzata invece di fare uccisione fortuito ha fatto una gran cretinata questa è veramente quanto fastidio meno un braccio fatti fuori tutti e concludiamo così ah no ancora no c'è ancora il tizio qua genio morto adesso però ok ancora niente e ci liberiamo così del personaggino mi speravo di riuscire a non far spegnere qui il cellulare allora vediamo un po' vedo che mi state seguendo dovrei aver finito la missione ah no me ne manca un altro allora sì che shampoo usi mi chiede tonio splash in verità voglio si vede che non siete dei veri pelati fino in fondo chi ci sta seguendo in verità voglio sfadare un mito non è che se uno è pelato non utilizza lo shampoo lo utilizza comunque perché è meno aggressivo sulla pelle rispetto ad utilizzare il bagno schiuma per lavarsi in testa quindi utilizzo i normali shampoo che utilizza la in questo caso la mia moglie che utilizza alcuni shampoo io utilizzo naturalmente gli stessi suoi quindi anche i shampoo di un certo livello naturalmente adesso partirà il cane super ah no sta in gavia per fortuna il cane è super incazzoso e quindi insomma c'è effettivamente un utilizzo degli shampoo questo per sfadare un mito un finto mito che i pelati non utilizzano gli shampoo per rispondere a lui andiamo a vedere che altro ci sta se c'è qualche bella domanda interessante adesso vi faccio sgamare da tutti perché io già lo so aiuto forse lo mi ha visto vediamo se riescono a farmi beccare forse ce la faccio vediamo quanti ne ho proprio svegliati con questa cosa tanto che volevo vedere un po' di domande che ci sono secondo me faranno mai un seguito si sicuro è dato talmente bene che penso che venda anche tantissimo vediamo un po' ancora salutiamo Ardesia che sta a Londra addirittura mi chiedono se nella maglietta c'è Mussolini Alfred Hitchcock non andrei mai in giro con una maglietta con Mussolini disegnato stampato ovviamente sarebbe un pochettino un po' violento come cosa Alfred Hitchcock allora ci chiedono questa è una bella domanda che ci fa Gshodan se è questo non è un ucciso purtroppo che lo atterro solo se non rischia di essere rischioso fare troppi long play su un titolo è una bella valutazione io personalmente non credo nel senso che è facoltativo cioè ci sta chi ha interesse a vederlo e chi invece non gliene può fregar di meno e quindi ha la libertà la facoltà di non dover stare a guardare la questione diciamo quindi ti direi che non è un grande secondo me non è un grande problema secondo me al contrario i long play sono un po' come una volta succedeva con gli shareware sono un ottimo stratagema per chi è ancora indeciso su acquisto perché secondo me questo ti permette di appunto di scegliere eventualmente se procedere con l'acquisto se invece evitarlo quindi ti direi no per ora non si stanno ancora dimostrando delle armi a doppio taglio per ora dopo vedremo magari nel lungolo vedremo se effettivamente molte persone non lo seguiranno e così via allora ci potrebbe anche stare qui ho concluso questo che era assolutamente una missione secondaria non è che ci sono sì esatto non è che c'è un vero e proprio per rispondere a Jones non è che c'è un vero e proprio bossone di fine o meglio ci potrebbe essere un bossone di fine gioco ma non necessariamente ci sono i cattivoni potenziati quello sì come avevi visto c'è tutto il concetto appunto dei cattivoni quelli assolutamente sì ci sono ce ne sono tantissimi adesso andiamo a sbloccare la la sincronizzazione per dirla in modalità Assassin's Creed andiamo così possiamo sbloccare questo territorio e poi andiamo avanti con le missioni principali riforgiamo grazie a Ergut anche per lo shampoo allora grazie Raffaele na che mi da del lei ti prego dammi del tu mi fai senti più vecchio di quello che sono in realtà purtroppo non abbiamo potuto vedere la versione Xbox One non ce l'hanno ancora mai mandata ancora oggi stiamo aspettando la versione Xbox One del gioco quindi ti direi che fatico a risponderti in proposito quello che posso dirti da come appare online sembra che effettivamente la versione Xbox One abbia problemi di rendering non problemi nel senso abbiano scelto effettivamente di fare un rendering basso cioè un rendering a 900p invece del 1080p quindi ti direi che ovviamente se sei un super cultore della questione grafica sicuramente questa cosa ti può dare un po' di conseguenze diciamo però solo se sei veramente il super cultore della roba grafica altrimenti secondo me non è un grosso problema cioè comunque è strutturato è fatto appositamente per non cioè per sfruttare un rendering più basso ecco non è che sono stati scemi in proposito questa è un po' una mia considerazione non è una cosa secondo me che può notare facilmente a meno che io non sia un super cultore per me tutta la vita meglio avere una fluidità maggiore che avere una risoluzione maggiore ecco questa è la mia considerazione va bene più grafica su schermo possibile al massimo del frame rate piuttosto che avere una questione di risoluzione di rendering video ecco questo è come la penso io vediamo se riescono a farmi sgamare forse si esatto sono riuscito a evitare di farmi sgamare andiamo avanti con un po' di domande mentre intanto le state facendo andiamo andiamo ah effettivamente mi dicevano giustamente di aprire la porta del caragor la gabbia del caragor perché quei grossissimi lupi possono effettivamente essere sfruttati a proprio vantaggio un po' come capitava anche in far cry saluto di nuovo ancora tutti i ragazzi sono entrati anche xerath dragons attonio figurati se mi hai offeso ma stai scherzando potete prendere il culo quando vi pare proprio da questo punto di vista sono molto tranquillo appunto ecco da lì dietro vedi per esempio per rispondere a Ergut anzi a chi diceva prima se potrebbe essere un'arma a doppio taglio il fatto di far vedere fare tutti questi long play appunto c'era bellissima risposta di sia di Ergut che di veleno di veleno veleno x che dice appunto che anzi long play di di brocchieri lo hanno convinto a comprare il gioco quindi ecco è un elemento molto importante per recuperare quello appunto succedeva una volta un po' con le demo un po' con gli shareware di provare il gioco di vederlo insomma prima di procedere all'acquisto ecco secondo me da questo punto di vista i long play questa cosa che sta scattando è la playstation non è assolutamente lo streaming ve lo volevo dire per conoscenza andiamo andiamo a fare a sbloccare un'altra torre e poi ci mettiamo sulle missioncine intanto ve lo vedete c'era qualcun altro si ci piace effettivamente giustamente ci sono persone anche io mi rivolgo a persone di una certa età quando parlo di shareware grazie buon brocchieri che mi sta seguendo ciao stefano e lo shareware era una cosa che si usava un tempo per i nostri più vecchi noi siamo un po' più vecchi cioè era un concetto che in pratica il gioco veniva rilasciato tipo su dischetti o su internet perché di solito avveniva quando c'erano ancora i dischetti a quel tempo veniva rilasciato che del tipo tu avevi il primo episodio era tipico Wolfenstein o Doom sono stati dei grandi precursori da questo punto di vista tu avevi il primo episodio che era libero cioè tu andavi e te lo giocavi fondamentalmente perché era gratuito chiamiamolo demo dopodiché gli altri episodi andavano acquistati solitamente o perché veniva distribuito proprio su dischetti diversi quindi tu dovevi avere il dischetto per avere gli altri episodi o perché magari si sbloccavano semplicemente successivamente quindi c'era questa doppia scelta e questa cosa poi nel tempo si è persa perché ha cominciato a perdere di utilità diciamo è stato sempre meno utile da questo punto di vista guardate qui Calagor che se la stanno prendendo con gli Urukai con degli Orchi e noi approfittiamo e osserviamo dall'alto quello che avviene evitando di ritrovarci invischiati in un combattimento che potrebbe essere abbastanza controproducente per noi diciamo facciamo vedere c'è anche un po' di intelligenza artificiale che va avanti sul suo per conto suo andiamo a vedere andiamo a vedere non è che c'è un problema di fluidità credo ci siano un po' di problemi secondo me è più una questione di sporcizia del disco perché sembra ci siano proprio dei problemi tipo di stuttering nel senso che sembra che alcuni momenti scatta come se non riesce a leggere bene il disco perché in verità il gioco è di una fluidità disarmante proprio gira benissimo non ci sono proprio problematiche di nessun tipo da questo punto di vista andiamo a fare questa iniziamo questa missione questa è una missione come vi dicevo una missione della storia eccola qui accettiamola andiamo a vedere si confermo che c'è la discesa per rispondere a tonio splash c'è la discesa controllata non è fluida come unity però effettivamente tenendo premuto il cerchio lui scende di appiglio in appiglio più che altro premendo una volta il cerchio non si lascia cadere da qualsiasi altezza semplicemente si lascia cadere fino all'appiglio subito sotto quindi un po' aiuta e nei cespugli non ci sta la paglia ci sono i cespugli quando si entra nei cespugli si va automaticamente in stealth si vede scurissimo tra l'altro ciao olivier da court basta ci dice basta con i long play degli amendola brothers con fifa va bene inoltre roli tu e la mentele che sono inascoltabili molto volentieri tagliano come avete visto non ha bisogno appunto di paglia di cuscini o materassi perché lui quando comincia a cadere troppo alto diventa che le brimbo e quindi non si fa più nulla fa molto ridere questa cosa è molto pulito si confermo quello che dice solstafir che saluto il gioco effettivamente appare super pulito graficamente anche su playstation sicuramente l'avrete visto con stefano su pc che è sicuramente una spanna sopra io non l'ho potuto ancora vedere purtroppo su pc sicuramente è bello pulito quello che ecco qui andiamo a selezionare goroth che è così abbiamo informazioni su di lui che dovremo ovviamente andarlo a beccare che è il domatore di caragor questi mega lupi cattivissimi e famelici vediamo un po' riveleviamo i suoi punti deboli vedete ci sono noi possiamo in pratica tramite il sistema nemesi possiamo vedere i punti deboli e i punti forti del nemico in questo caso vedete è terrorizzato quando vede i caragor nonostante sia un addestratore ed è vulnerabile se si è in sella una bestia in pratica se si fa un colpo critico anzi un colpo di grazia mentre si è in sella una bestia muore istantaneo per cui continuiamo e i suoi punti di forza vedete non subisce attacchi a distanza fa malissimo quando ti colpisce da vicino non puoi fare contraattacco e ha diversi seguaci quindi dobbiamo stare attenti da questo punto di vista marchiamolo eccolo qui e adesso vedrete che dovremmo andare a far fuori lui ci sono le collector's edition su un console credo di si non ne ho idea ma penso di si così su due video ti direi di si esce domani confermo 1080p anche a 30 frame per il secondo qui su ps4 dovrebbe essere 920 sempre a 30 frame invece su xbox one su pc ovviamente il frame rate dipende dalla vostra potenza ciao tonia anzi toni a cattuni c'è il rischio che il gioco annoi mi chiede è una bella domanda ma penso sia abbastanza collegata ai free roaming in fin dei conti quindi ti può annoiare assassin's kid ti può annoiare batman sicuramente ti annoia anche questo perché è quel tipo di gioco lì dove diciamo la parte di trama la parte di narrativa sicuramente è un po' più sullo sfondo rispetto a un call of duty per intenderci il single player piuttosto che un'avventura e così via perché qui c'è molto la componente di fare quello che uno vuole e poi ti annoia dipende questo è un gran bel gioco è un ottimissimo action quindi ti annoia fino a un certo punto perché comunque funziona molto bene come meccanica certo se questa cosa deve avere tutto il mondo di gioco ogni volta devi sbloccare la fucina hai tutte le missioncine secondarie che più o meno si assomigliano e così via se quella cosa potrebbe rivenirti un po' annoia però è implicita nel gameplay possiamo dire io non so intanto se intendo minimamente quello che sta dicendo del tipo ciao superman confermo che non ha alcun tipo di multiplayer il gioco è solo ed esclusivamente single player come vedete adesso col fatto che lo abbiamo controllato fa vedere il sistema Nemesis appunto che se uccidiamo il capitano Ratbug si mette alla sua posizione solo che Ratbug è un controllato da noi e quindi è un po' come mettere le spie diciamo quindi è un po' di spionaggio e contro spionaggio quindi lo infiliamo dentro in verità lo controlliamo noi questo ci può aiutare a uccidere a far fuori gli altri capitani adesso dobbiamo evitare naturalmente dobbiamo evitare naturalmente che facciano fuori il tipo noi come avete visto ci sono dei difensori hanno lo scudo e quindi bisogna farli fuori da dietro perché altrimenti quindi ci fanno fuori un piccazzuleia infinito stanno ovviamente facendo fuori lui che noi dovremmo evitare che lo fanno fuori naturalmente questa cosa ancora non è che l'avevo capita molto bene come un idiotino ce ne sta qualcun altro? no abbiamo fatti fuori tutti perfetto andiamo avanti intanto vi sto seguendo Alien Isolation dopo andiamo a perdere un po' di tempo anche sui punti abilità però ci andiamo dopo dicevo confermo Alien Isolation esce settimana prossima ma noi usciremo con la recensione già domani se ce la facciamo perché in verità Andrea lo sta seguendo Andrea Centini il nostro Andrea Centini in verità ci sta ancora lavorando sopra per cui potrebbe essere non ce la facciamo uscire subito puntuale le scadenze di embargo anche se ce la metteremo tutta per quanto riguarda per rispondere anche a Antonio per quanto riguarda il contest ragazzi dovrebbe uscire anch'io so che devo uscire dentro questo weekend purtroppo la vostra sta seguendo completamente Antonio quindi vi posso venire incontro fino a un certo punto tra l'altro qua il following automatico io non sto facendo nulla e camminando automatico infatti mi fa ridere il segui rat bug perché per non seguirlo dovrei proprio andarmene io volontariamente ah no adesso devo salire altrimenti me ne devo andare via io volontariamente da lui altrimenti lo seguo in automatico splendido piano tu uccidi io aspetto ecco qui sei uno stratega geniale andiamolo a cercare capitano goro della gioia ho già la colina in bocca ovviamente io lo devo beccare senza farmi sgamare come avete capito un minimo di sandbox diciamo vediamo come facciamo qua per non farci sgamare che non mi vorrei far sgamare mentre me ne vado in giro saltellando a destra e a sinistra vediamo non farci non ci dobbiamo far sgamare perché altrimenti sicuramente finisce la missione in istante tanto è sempre così che funziona guardate che avvicinamento super tattico guardate che avvicinamento super tattico non vuol dire che non sia qui giuro l'ho sentito respirare ok non si sa perché non siamo c'ha i classici incastramenti tipici anche degli Assassin's Creed dove diavolo sta il tipo 21 piedi sta qua sotto ma non lo riesco a vedere che sfiga io ovviamente voglio mettermi dall'altra parte naturalmente ecco qui eccolo qui siamo arrivati eccoci adesso dopo vi leggo quello che mi state scrivendo mi chiede Spugna come mai nella videorecensione non ero entusiasta del gioco no non è vero assolutamente proprio anzi sono super entusiasta del gioco lo devo ancora molto giocare perché appunto la recensione non l'ho seguita assolutamente io ma l'ha seguita il buon Stefano quindi comunque io ho giocato quel poco che avevo fatto ma ero assolutamente sono assolutamente entusiasta mi piace molto il gioco mi fa impazzire uno che si tuffa di testa cioè sopra il cemento veramente è completamente senza senso come cosa vediamo cosa possiamo fare qua per non farci sgamare adesso userò la tecnica che mi ha consigliato non mi ricordo chi non cercare di non farmi sgamare no che merda sono rimasto incastrato ma che coglionata porca troia beh perché non me la fa aprire la gabbia maledetto maledetto fammi aprire la gabbia niente non mi fa aprire la gabbia probabilmente non la poteva aprire da di qua come avete visto c'è anche appunto la cosa bellissima di lanciarli nel fuoco io trovo sempre super figa io trovo quello che mi piace di questo gioco in realtà è che anche la mossa quella di uccisione così in verità è molto lenta e questo quindi da richiede un sacco di tempo un ottimo tempismo per poter uccidere i nemici che sono atterrati è una cosa che mi piace moltissimo perché dà un valore di tatticità ulteriore al funzionamento del gioco una cosa che secondo me funziona molto bene perché così vedete quelli che sono storditi a terra in realtà il gioco ti stimola che se li volete effettivamente far fuori dovete giocarvi bene le vostre azioni perché altrimenti siete in balia in verità del nemico vedete mentre sto facendo questo il tipo mi sta cercando di colpire quindi in quel caso quello che succede è che naturalmente lui fa in tempo a rialzarsi come è capitato anche adesso questa è una cosa che secondo me funziona molto bene perché dà un valore aggiuntivo all'effettiva all'effettivo tempismo del gioco mi è piaciuto molto devo dire andiamo avanti intanto saliamo sopra così lo identifichiamo questi ci sono passato praticamente a un centimetro e non mi ha visto gli faccio i complimenti è il perfetto Uruk di guardia vedete quando tengo premuto vaffanculo vediamo se non mi sono riuscito a far sgamare sono riuscito a non farmi sgamare eccolo lì abbiamo sgamato qual è il tipo e adesso sta avete visto infatti che era il modo per aprire la guardia avete visto abbiamo lanciato adesso sto per fare la coglionata lui è terrorizzato avete visto no? è talmente terrorizzato che quindi naturalmente quello che succede è che eccolo qui fatto fuori con grande violenza tra l'altro andiamo a vedere il rapporto di battaglia così ci fa vedere intanto io vi rispondo a un po' di domande visto che sono arrivate milioni allora grazie consigli di Ergut che ovviamente ho ignorato consigli il pad e la tastiera io leggevo che Stefano consigliamo in realtà se si è se si è un buon display se si è un buon display ma una buona gestione della scrivania di utilizzare addirittura mouse e tastiere sono lui più reattivo nei combattimenti anche per girarsi più rapidamente quindi ci può stare ti piace prenderli tutti da dietro come perri in dark souls assolutamente adoro più di tutti di prenderli da dietro Ergut mi dice mi vedo stanco no assolutamente anzi sono super contento fran pj che chiede informazioni sugli aggiornamenti di itunes ci stiamo lavorando in realtà stiamo lavorando su un sistema per automatizzare completamente quegli aggiornamenti ci vorrà un po' di tempo esistono le cavalcature si assolutamente si possono cavalcare i kalagor se non ricordo male andando avanti nel gioco si sblocca la possibilità dopo andiamo a controllare non c'è danno da caduta perché come avete visto per rispondere a dark leo 69 quando si prova a cadere da molto alto in verità si diventa che le brimbor e non si muore credo che stasera serata libera credo che non ci siano long play stasera è un incrocio perfetto veramente fra tutto un po' darksiders come dice giustamente anche Tony Accattuni un po' un po' tanto assassin's creed un po' tanto batman combattimento è proprio batman gestione del free roaming è proprio assassin's creed il sistema allora chiede superman il sistema di scalata un po' approssimativo diciamo che secondo me c'è un po' di approssimazione generale su proprio su in generale la navigazione all'interno dello scenario secondo me è un po' una cosa in generale che si subisce un pochino secondo me ma credo ormai è evidente che è parte integrante fondamentalmente del di questi free roaming ancora non sono riuscito a trovare dei sistemi di controllo effettivamente piacevoli a tutti gli effetti credo sia appunto una cosa un po' generale purtroppo vediamo ancora un pochettino vedete molti parlano di appunto mouse e tastiere e così via le frecce in rallentatore certo in pratica quando si entra con la visuale elfica tenendo premuto il grilletto sinistro in automatico si va con la concentrazione che è quella striscetta bianca che vedete intorno al cursorino si può attivare o disattivare con la pressione della levetta analogica destra praticamente quindi così il tempo non è rallentato se lo premo il tempo si rallenta ed è più facile per me mirare praticamente quella cosa lì si riguadagna combattendo siccome non puoi mangiare almeno ti perdo la grafica beh a stomaco vuoto e il bicchierino per la grafica non è male ti ringrazio moltissimo a stomaco vuoto non è affatto male una fetta di culo vicino all'osso grazie allora poi continuo salva logan mi chiede chi non segue Tolkien e quindi non ha visto il signore degli anelli e quindi non è magari fan degli anelli se gli può piacere il gioco secondo me sì perché è in modo molto paraculo si ispira al signore degli anelli nel senso che chi adora il signore degli anelli sicuramente gli piacerà perché si innesta pur con diversi problemi di continuity come hanno evidenziato più super nerd si innesta su quell'universo chi però non lo conosce non è un problema perché è molto sullo sfondo alla fine è una bella storia medievale quindi alla fine può piacere anche a chi piace Game of Thrones per intenderci è una bella storia ambientazione medievale di grandi combattimenti e di grande esplorazione quindi diciamo viene molto incontro da quel punto di vista secondo me funziona molto bene su quel frangente ecco questa è la mia valutazione andiamo a vedere andiamo avanti con le missioni vi do due secondi mi fa ridere grappa e ombra di Mordor what else chiede giustamente Fabio hai ragione è a stomaco vuoto tra l'altro questo è per fare concorrenza al buon Stefano allora vi chiedo a voi di scegliere a questo punto vi do questa scelta fra fare carriera quindi per continuare a spingere Ratbag o la missione 9 mi si è sbloccato ricordi infranti che invece è legata a Gollum visto che facciamo solo missioni principali vi lascio qualche secondo per scegliere mentre intanto mi metto a potenziare grazie mi metto a potenziare il personaggino allora armirune vediamo un po' per la spada ho un'altra un'altra runa da poter montare quindi direi che siccome ho un sacco di Dimitril lo andiamo a comprare così posso caricare una seconda runa sulla spada vi ho spiegato il sistema che ha visto la superdetta sa come funziona il potenziamento delle armi si comprano gli srotto delle rune e poi si possono montare quelle che si guadagnano uccidendo i capitani andiamo al sbloccato l'arco no l'unica che abbiamo è già montata che vedete mi dà il 1700 di recuperare due proiettili elfici con le uccisioni in sella e andiamo a vedere invece se sul pugnale neanche qui già ce ne abbiamo abbastanza andiamo invece ai potenziamenti a questo punto spendiamo un po' di soldi in abilità allora il sistema è duplice adesso morirò gli attributi che si pagano con il Mitril fondamentalmente sono classici aumentare la salute aumentare i proiettili aumentare la concentrazione sbloccare più rune che quello che ho fatto dall'altra parte in verità si ritrova anche qui quindi io direi di spendere un altro po' di Mitril per aumentare la concentrazione massima che può dare una mano e anche per aumentare la salute invece andiamo agli attributi che questo è proprio il classico albero dei talenti quindi abbiamo i punti abilità che ne ho 4 perché si sbloccano man mano che si avanza di livello praticamente quindi avete visto il livello successivo è con il potere e invece il punto abilità è con l'esperienza a questo punto io qualcosa già l'ho spesa a questo sotto vedete non posso non ho abbastanza potere quindi finché non ho in base al potere che guadagno sposto quella sorta di linea rossa che c'è lì che mi sblocca i tire aggiuntivi praticamente di abilità quindi in questo caso non è che posso posso dire molto allora vediamo quelli che posso andare a comprare che mi sono rimasti i nemici contraattaccati saranno scagliati indietro storditi o atterrati regola gli atterraggi quando supero con un balzo di ostacoli per guadagnare un incremento di velocità vedete mi sta facendo mentre corro poi accelero posso sparare fuochi o ai barili per fargli esplodere che mi fa sempre ridere in realtà in questo momento credo che prenderò solo l'impatto per aumentare la cosa dopodiché mi guadagno mi mantengo i punti abilità per poter acquistare i tire aggiuntivi non appena li sblocco non appena aumento la cosa come vedete alcuni punti alcune abilità sono sbloccabili solo se completo determinate missioni perché in pratica mi danno il padore per esempio cacciatore di karagor che posso contrattaccare gli attacchi dei karagor dovrò aspettare una missione che mi permette di farlo praticamente andiamo proseguiamo a questo punto vi ho rotto un po' il cazzo allora andiamo a vedere che altro c'è di figo che mi state scrivendo se avete scelto che missione fare vediamo un po' grazie per il brindisi a grey fox apprezzo moltissimo andiamo a vedere perché avete scritto tantissimo allora vedo che nessuno vuole mi ha fregato un cazzo che missione faccio ah si un paio ha scritto gollum quindi andiamo con gollum dai andiamo a vedere gollum andiamo a gollum eccolo qua tac e approfitterò anche sfrutterò anche il viaggio rapido già che ci siamo quindi viaggio rapido sulle torri già conosciute classico si può fare al volo spugna mi chiede se sarà buona giocare per il gothi con i classici altri titoloni in attesa bella domanda io ti direi di sì probabilmente non per il primo post non proprio per il gioco dell'anno ma per i piani molto alti ti direi di sì alla fine tutti i migliori free roaming questo anno si ma io immagino anche un witcher anche se più rpg ci faranno attendere di più gta alla fine già è stato un super titolone bisognerà vedere ci potrebbe stare anch'io come ergot spero che dragon age sia super super sorprendente come lo è stato questo anch'io sono con te assolutamente andiamo andiamo di corsa poi leggo un altro po' di vostre domanda intanto prima vado da di corsa curo senza crearmi problemi facendo proprio il classico bimbo minchia che va senza preoccuparsi dei nemici andiamo io adoro questo tizio che va in giro per una landa stra piena di rucai e nessuno gli dice un cazzo beato lui potessi io andare in giro per la città senza che nessuno mi nota quante cose farei andiamo iniziamo missioncina vediamo cosa succede intanto risponda un po' quante personalizzabili le esperienze di gioco mi chiede dragon utilizzate questi colori che sono terrificanti nel senso come avete visto i potenziamenti sono abbastanza d'obbligo quindi non credo ci siano grandi differenze di stile quello che cambia pesantemente è se volete giocarlo tutto action tutto sterto perché il gioco può essere affrontato come più vi pare andiamo potrebbe intaccare le vendite di assassin's creed unity non credo assassin's creed rimane assassin's creed anche se sarà il peggior capitolo non credo che lo sia ma ammetti caso pure fosse il peggior capitolo non credo minimamente che questo lo possa mettere a repentaglio sarebbe una bellissima cioè sembra una bella speranza per warner ma non credo poi escono comunque tanto lontani alla fine manca più di un mese assassin's creed quindi in caso uno fa in tempo ringrazio che me l'avevo perso spurs che dice che sta coinvolgendo i suoi amici nel seguire multi in generale e vari speciali live ti mando un bel bacio grazie grazie sei carinissimo chiede salva Logan se ha senso prendere questo gioco in day one non me lo puoi fare a me questa domanda insomma hai visto la recensione hai visto Stefano quanto ne ha scritto cazzo ve lo stiamo facendo vedere veramente tanto trai le tue conclusioni se è un tuo gioco è certo vale la pena prenderlo se sei un po' indeciso secondo me io consiglio che do sempre quando sei un po' indecisi fate altro per queste due tre settimane da quando è uscito tanto tempo due settimane e il gioco esce a prezzo a prezzo ridotto quindi alla fine non c'è tutta questa urgenza diciamo potete tranquillamente aspettare io vi consiglierei di aspettare se siete un po' indecisi perché ormai veramente ci vuole pochissimo prima che si ribassano di prezzo i giochi quindi che fretta c'è maledetta primavera che fretta c'era qui classica missione stealth non dobbiamo farci vedere non dobbiamo farci sentire si può definire mi chiede il primo chiede Pozzi se si può definire il primo vero gioco next gen no perché è cross gen quindi ti direi se devo dipensare al primo vero gioco next gen non penso a questo penso più alle esclusive penso al forzo Horizon penso all'Infamous ecco penso più a questi giochi se devo pensare al primo vero gioco next gen questo secondo me si vede tanto che è cross gen in primis perché graficamente non è non è sta grande meraviglia se devo essere sincero in primis cioè è bello ma non è una cosa incredibile da dire mamma mia che gioco sconvolgente ecco quello non credo proprio in primis aspettate devo fare bam secondo arciere non ho capito qual è però ah in verità non c'era il secondo arciere ma io veramente questa cosa che fa questa caduta a me fa proprio tanto ridere uccidi il secondo arciere come cazzo lo ammazziamo quest'altro arciere che sta a guardare proprio qua sotto senza farci scamare vediamo se riesco a fare un piccolo movimento un po' paracuro vediamo però lo dovrei uccidere con un colpo alla testa per essere campione e usare e sfruttare il bonus vediamo se ce la facciamo senza farci beccare a fare con l'arco no non ci rientra silenzio mamma mia campione eh campione di incassi proprio andiamo a vedere Gollum che giro fa senza farci sgamare ah noi ci dovremmo forse andare da Gollum che palle eccolo qui vi seguo eh poi vi seguo non vi fate solo che la missioncina se non ci sto troppo attento rischio di morire 67 volte e doverla rifare 85 volte non è proprio il massimo del divertimento dai Gollum date una mossa Gollum che ha questo corpo super plasticoso classico ah ringraziamo GM McGill che ha vendicato la mia morte quindi siamo siamo ritornati un po' online siamo ritornati a quanto pare e c'è questa sorta di scambio un po' da Dark Souls se non ricordo male e no stavo dicendo ha questo un po' di real engine sui corpi tutti fatti in plasticosi un po' Barbie e Ken Gollum usa il mondo assolutamente troviamo sto manufatto delle visioni ovviamente sarebbe troppo bello poterlo trovare così in un attimo quindi dovremo risalire su ogni possibile risalita io tra l'altro non vedo tutto buio porca troia non si vede veramente niente dobbiamo trovare sto manufatto dobbiamo trovare il manufatto evitando di farci beccare vedete che bei saltellini hop hop che stava facendo andiamo a vedere da qua che siamo un po' più in alto cerchiamo sto manufatto va a tuo amico sembra piacere metterci in pericolo ne vale la pena per svelare il mio passato mamma mia che voce che voce cavernosa troviamo sto manufatto delle visioni il tuo cazzo rula sta dobbiamo arrivare alla torre va senza farci sgammare da tutti naturalmente che non sarebbe male tra l'altro questa torre se non sbaglio non l'ho neanche riforgiata quindi forse ne approfittiamo anche possiamo fare una grande mossa e approfittiamo no non sto ancora uscendo dalla remissione non rompermi le scatole vai mi sono davanti eh l'anello è presente non mi sembra no non mi ah pensavo avesse annullato la missione mi facevo veramente lanciavo una super imprecazione infinita dove cazzo sta questo manufatto della visione mi sta mi sta facendo venire le madonnine dove sta dove sta andiamo a cercare è di uno è di uno scuro poi tra l'altro qui ho tutte le luci nello studio è da perderci completamente la vista pure qua sta eccolo ho trovato e dai scendi giù ciccio eccolo qui dobbiamo trovare dovrebbe essere questo guarda avanti intanto che ci stanno un milione di domande cosa pensi di grey fox di alcune persone fanno finta di essere youtuber e prelevano le kid dei giochi gritti gratis e poi le vendono sono bravi paraguli li hanno fatto bene che se ancora ci stanno i boccaloni che quando dici youtuber si accendono è giusto che era così mando un bacio anche a tonnino a tutti superman la spinta di questo mordor guardate questo pezzo è importantissimo perché quello ci fa capire chi è che le brimbor la spinta di questo mordor potrebbero nascere magari altri titoli che prendono il medio da grandi franchise per riunire il tutto dando vita a qualcosa di simile a questo sono d'accordo con te sarebbe bellissimo è sempre una bella speranza sembra che in realtà il proprio sia stato a warner da prima a capire come si fanno i tie-in prima con batman e adesso con questo mordor speriamo che effettivamente sia così senso abbia questo senso che personaggi di arda si incontrano durante il gioco oltre ad orchi karagor graug regol ci sono altre varie nemici beh yuruk come avete visto però non penso grandi altre altra roba vediamo vediamo l'ultimo anno cross gen mi chiede r4 regon o regon no secondo me anche il prossimo anno continuo a uscire roba next gen secondo me per me si anche il prossimo anno ancora poi il cestino pot si ve chiede se sposta il sistema nemesis se sposta tanto gli equilibri a livello di gameplay secondo me si più che gli equilibri è una bella alternativa a quello che abbiamo visto fino ad oggi cioè in fondo in free roaming che puoi fare le missioni secondarie come ti pare avere il sistema nemesis da un ulteriore strato perché veramente potresti passare la tua giornata solamente a far fuori i capitani per sbroccare tutte le rune e così via è una bella alternativa alla fine ogni capitano ha punti deboli punti di forza diversi tipi di armi diversi sono sempre creati tutti in modo procedurale quindi alla fine sono tutti scontri differenti è interessante a me è piaciuto molto come aggiunta moltissimo andiamo avanti ancora intanto vediamo il sacco un po' di combattimento naturalmente qui c'è della gente un po' incazzata ne è un paio forse proviamo a farli fuori era successo la telecamera è una pazzita uno intanto abbiamo fatto così oh sono pochi i goal come potete vedere ce n'è giusto qualcuno ha detto aspettate che ne arrivano giusto eccolo qui scaglia un potente lampo di luce che danni gestordisce gli uruk o uccide i goal quindi una volta caricata la tua serie di colpi premi più x per usare lampo spettrale vabbè andiamo avanti quindi abbiamo sbloccato questa nuova mossa tac adesso la facciamo eccola qui quindi funziona sempre con la solita mossa che devo prima caricare il colpo quindi colpetto e carica e poi a quel punto la posso fare devo sempre aspettare di poter eccolo qua caricata e non me la fa fare naturalmente bam andiamo a vedere se ancora riusciamo a farla perché prima bisogna ovviamente sempre al solito caricare vai bam il colpo spettrale si carica sempre con il cerchio no con il cerchio si fa il colpo spettrale e questo permette poi di morire come state vedendo adesso sono morto a posto ah no sono riuscito a sopravvivere mazza come l'ho preso proprio per super culetto eccoci qua come avete visto perché con il cerchio si carica il colpo spettrale e questo permette poi di fare bam il super colpo o c'è anche l'altra combo che qui che io ho col triangolo e il cerchio che permette di fare l'uccisione rapida di un nemico mettiamo un po' di mappa vediamo ancora un po' di domande così vediamo se usate devo fare queste interruzioni ma non è proprio il gioco migliore per poter giocare mentre si risponde alle domande allora mazzazel non so se poi l'hai fatta dal quesito ma falli pure domandate 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 anche roba extra visto che stiamo qui a chiacchierare per un paio d'ore ci abbiamo allora vediamo Ergut no già ho detto long play stasera non ci dovrebbe essere ma guarda sulla nostra pagina di twitch ma anche su multiplayer.it si riesce diretta e c'è tutto il calendario cioè figo infatti dice Ergut quando dei nemici quando dei capitani sapete la debolezza li fate fuori con un colpo singolo e questa è molto figa come cosa anche qui allora marazel dice classica domanda configurazione guarda rispondo giusto a te che sei stato il primo poi non vado oltre intanto scegliete per le missioni visto che ce ne sono sbloccate altre allora se volete che faccia un punto carriera con ratbag o faccia una delle due nuove quindi l'unica verità andiamo avanti con gollum o i reietti con irgon che ha avuto l'idea per attirare il capitano nero quindi scegliete una di queste tre scrivetemelo e la facciamo dicevamo allora andiamo avanti lui aveva gtx 660 8 giga di ram e un i5 4570 ce la fa supportare secondo me ti parte ma non sperare di giocarci a risoluzione particolarmente alta poi superman vabbè fa la classica domanda esistenziale quanto ha senso fare uscire tutti i giochi adesso che tutti si massacrano a vicenda è una classica cosa purtroppo natale è troppo appetibile quando ci sono i soldi la gente li spende c'è la tredicesima c'è tutto i papà che preparano a regalare qualcosa ai figli quindi purtroppo per forza si convogliano che problema hai Jacopo grande Jacopo grandissimo molto bene questa grande pausa pranzo allora andiamo avanti ancora Emanuele Mattocci dice i nemici non sembrano molto furbi sono d'accordo con te e anche Codino si lamenta che è un po' troppo scuro effettivamente andiamo proviamo un po' a lavorare sul gamma perché effettivamente anche a me sembra veramente troppo troppo scuro gamma dobbiamo vedere il simbolo mettiamolo così lo sto schiarendo se non sbaglio quindi mettiamolo facciamolo prima l'avevo un po' abbassato mettiamolo leggermente più alto ecco qua perché effettivamente è molto scuro comunque come gioco è assolutamente molto scuro andiamo avanti ancora vediamo un attimo mh mazza quante domande avete fatte il mio ID PSN su PS4 chiede Spurs vale per tutti cioè ce l'ho su Steam PS4 Xbox One sempre lo stesso che è Quakeman 81 tutto attaccato ovviamente 81 non è l'età ma l'anno di nascita giusto per essere sicuri vediamo avanti ancora non l'abbiamo provato per rispondere Emanuele Mattocci non l'abbiamo provato su old gen su 360 PS3 perché col fatto che esce dopo non ci è ancora arrivato quindi aspettiamo poi sicuramente lo proveremo e faremo anche un videoconfronto riprenderemo il videoconfronto su cui sta lavorando adesso Vincenzo per aggiungere le differenze con le versioni old gen andiamo a vedere carriera reietti capitano nero le avete dette tutti allora io sai che vi dico visto che sta più vicino me ne vado proprio qua a fare carriera andiamo col viaggio rapido così ne approfittiamo ringrazio di nuovo Salva Logan e dice ho provato un sacco di testate ma qui sembra di stare in una seconda famiglia grazie 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 se poi ti mando un po' di bacio anche a te assomiglia a Borderlands e arriva gridi a farci questa domanda super super audace ma guarda se ti devo rispondere in modo ok se devo risponderti in modo molto educato e gentile ti direi che secondo me non c'entra un cazzo con Borderlands Borderlands veramente è un altro prima di tutto Borderlands è in prima non so se stavi parlando di questo gioco o di altro ma in primis Borderlands è in prima persona questo è in terza questo è un elemento di differenza eh qua ha fatto la gran cazzata del giorno qui eh ma proprio di quelle potentissime adesso morirò 60 volte aiuto 60 dietro tra Calagor e tutto il resto qui faccio vedere un po' la paraculata se non ricordo male la paraculata un po' di questo gioco preparatevi perché qua c'è questa paraculata che se non muoio prima sono smesso in pratica a differenza di come era Assassin's Creed si possono far partire le missioni anche mentre si è in un momento di accensione dell'intelligenza artificiale eh andiamo avanti vediamo ancora ancora eh i DLC sono corposi visto che il season pass costa 25 euro sul season pass super costoso ne parlavamo anche in diretta secondo me senza senso un season pass così tanto costoso su un gioco nuovo cioè non è Call of Duty che alla fine ha una tradizione di DLC quindi tutti sanno cosa aspettarsi adesso sono arrivate ovviamente tutte le richieste amico arrivano tutte insieme è abbastanza audace spero che sia super corposo per ora non si sa bene hanno detto più o meno cosa uscirà per cui beh c'è un ciclo giorno-notte mi chiede possive ni c'è nel senso ci sono missioni di giorno e missioni di notte ma in realtà sembra che non ci sia un vero e proprio ciclo ma si può far passare il tempo dalla menu che avete visto dalla mappa come avete visto prima tra l'altro non sto sentendo un cazzo di quello che bisogna fare ah mi devo sbrigare e non devo far uccidere Ratbag e devo uccidere gli arciri senza farmi sgamare vediamo se ce la faccio madonna che liscio proprio di altri tempi che ho fatto porca vacca quello si che era un liscio eh no vabbè sono proprio deficiente ah devo uccidere gli arciri ammazza quando sei idiota allora si ho sbagliato proprio questa l'ho sbagliata proprio alla grande qua proprio il cazzatone di tutti i tempi ho fatto eh eh no no qua mi sa che ho fatto una gran cazzata ragazzi infatti ho fatto una gran cazzata arriva c'è anche il cattivone di turno ma qua ho fatto una gran cazzata il ciclo giornotto in realtà sembra che cambi in realtà solo con le missioni cioè non non in modo non in modo sensato ma solamente con le missioni sembra tra l'altro qua non ho capito che è successo ah è morto penso che sia no in verità stanno guarda che mucchio di questo per esempio è una cosa che non ha senso eh questa cosa qui questo mucchio di deficienti che mi sta colpendo da lì veramente ma che è ma che è sta roba proprio cioè veramente super idioti vabbè no approfitto di continuare a far fuori gli altri se tanto stanno tutti a farsi le seghette come si suol dire ora vediamo non riesco a far fuori nessuno da qua non riesco a far fuori nessuno vabbè andiamo a fare un po' andiamo a rompere un po' il cazzo alla gente va andiamo scuro signore vai becca adesso scuro signore va boom strac questo questo è riuscito ad ammazzarlo pazzo che bella ammazzata e mi ha tirato tuo cugino lì comunque il combattimento ripeto funziona veramente figo il combattimento eh e vai a quel paese tanto sto combattendo ovviamente voi potete continuare a fare domande mi vedete super preso perché sono super stupido avete visto che bel colpetto che gli ho tirato a tuo fratello lì dietro eh invece lui mi ha ripreso qua funziona naturalmente i nemici i cattivoni cioè i capitani come in questo caso vanno prima pesantemente indeboliti prima che si possano eh prendere in ostaggio e quindi poterli interrocare come in questo caso vedete adesso io l'ho indebolito è diventato verde adesso io mi ci posso avvicinare lo posso prendere ed interrogarlo adesso no cacchio ma 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 bella mazza come mi ha fregato in un attimo devo stare attento a non ucciderlo ho detto e ti devo interrogare ciccio eh mi è sfuggito come avete visto non è stato male come mi ha fregato prima ecco qua adesso a questo punto eh i comandanti mi fa vedere sono il massimo rango eh è la guardia adesso mi sta facendo vedere che chi è il padrone di lui praticamente eh l'abbiamo visto prima era quello là in alto eccolo lì quindi clicchiamo e sappiamo adesso a questo punto chi è il comandante quello massimo praticamente di nuovo eh vedete c'è tutto un sistema in pratica per far venire fuori i comandanti e bisogna fare una resa dei conti quindi comunque c'è tutto un progetto per poter effettivamente vedere far uscire i comandanti allo scoperto fatti fuori i comandanti si è fatta fuori proprio la testa dell'esercito di Sauron in questo punto al solito punti di forza punti di debolezza l'abbiamo marchiato e adesso e adesso ritorniamo a noi fatto fuori anche lui tra l'altro prendiamo la nostra runa la runa dell'arco come avete visto intanto andiamo avanti andiamo avanti ciao Marcus Gino ti ho visto adesso che sei entrato vediamo vediamo si può saltare da fermi no non si può non c'è un pulsante di salto e il salto è quello automatico classico all'Assassin's Creed quando si va vicino ad un appiglio salta tenendo premuto il tasto salta in automatico grazie Gray Fox sei gentilissimo siamo contenti della pausa pranzo ti piaccia come format pranzo con pausa pranzo che sta facendo che gli ha tagliato un orecchio figo è possibile giocare con i dialoghi in inglese e sottotitoli in italiano mi chiede Tony Calcagna che saluto perché è la prima volta che sento qui tra l'altro non so se Jacopo hai messo il nome del gioco su Twitch il nome del gioco su Twitch mi sa che non c'è il nome del gioco su Twitch dicevamo dialogo in inglese gioco in sottorino italiano no almeno su console no parti tutto in automatico a seconda della lingua che sia non so su PC qua dovrebbe rispondere Stefano non so se c'è ancora se si sta massacrando ancora a seguirmi andiamo avanti andiamo avanti intanto ciao Tony a cattuni che vai a mangiare beato te andiamo avanti vediamo vediamo quando cosa succede quando raggiunge il massimo ecco qui fa vedere Ratbug ha vinto contro lui ed è diventato quindi ha preso lui potere ed è diventato lui la guardia la nuova guardia del corpo del comandante Brian Marshall l'intelligenza artificiale sembra deficitaria si sicuramente l'intelligenza artificiale è il punto più debole di tutta la produzione è in dubbio questa cosa qui sembra proprio così ti confermo andiamo a equipaggiare la runa che abbiamo preso ce la facciamo recuperare dai rune era una runa di arco quindi c'ho anche già uno slot vuoto e ce la montiamo eccolo qui perfetto adesso come avete visto quello che devo fare ho anche sbloccato abilità ma non voglio spenderci i soldi adesso come avete visto quello che devo fare fondamentalmente è far fuori quattro comandanti probabilmente per appunto far uscire il tipo quindi andiamo a vedere qua che ci sta come missione è un'imboscata va bene per disembolire l'esercito come vedete tutte le missioncine naturalmente al solito danno ricompense o in soldi a seconda del tipo di missione o danno ricompense in soldi o danno ricompense in come si chiama in mitril sulla sinistra intanto vi sto spiegando su quelle sfide là di caccia o di sopravvivenza si sbloccano man mano che andate avanti anche queste vi danno bonus quindi raccogliere un certo tipo di erba come in questo caso o vedete dovrei raccogliere altri due erbe pipe e un'erba lothrond oppure la caccia devo uccidere devo trovare uccidere tre ragnetti in giro per il mondo quindi adesso direi che possiamo cercare di far fuori dei capitani qui vediamo che ci sta elimina il comandante anche lo scuro signore saprà delle tue gesta ma sai che vi dico ragazzi che quasi quasi potrebbe aver senso andarla a fare oppure c'è ancora gollum o ancora hirgon facciamo un minimo di nemesi facendo fuori i quattro comandanti chi è che sta arrivando qua con una violenza incredibile porca troia chi l'aveva visti questi qua vorrei hop allora sistema nemesi andiamo a vedere così possiamo scegliere i comandanti tac switcha dalla mappa i comandanti molto veloci molto belli i menu che hanno praticamente zero caricamenti almeno qui su next gen una cosa super piacevole allora come vedete posso cercare di far fuori alcuni possono essere sorpresi vabbè questo chi se ne frega i comandanti eccoli là sopra i quattro comandanti ah no ho detto ragazza i quattro comandanti penso sia proprio la cosa finale super potente di tutti i tempi praticamente per finire il gioco probabilmente o per sbloccare proprio le super missioni avanti 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 allora andiamo ancora avanti scusate tanto stavo ancora leggendo vedo intanto nel frattempo sopraggiunto non so chi è che sta commentando come multiplayer atta ti continuo a girare ci sono le armature no non ci sono le vere e proprie armature come avete visto prima ci sono le tre armi che sono prefatte arco spada e pugnale che entrano in gioco a seconda del tipo di combattimento che si utilizza e basta non c'è un vero e proprio equipaggiamento per rispondere a spugna che chiede se ci sono bug sulla versione pc Stefano non mi ha detto quindi vi direi che non ci sono problemi in proposito allora andiamo avanti allora a questo punto eliminiamo i quattro comandanti vi direi che ce ne andiamo a fare continuiamo con le missioni principali sono queste dorate le missioni principali naturalmente facciamo di nuovo un viaggio rapido vorrei fare di nuovo ma qua vicino non è che ci siano questi grandi viaggi rapidi andiamo qua va da poter fare non è disponibile ah cazzo no allora perché devo per forza far fuori ah no perché ho i nemici ho i mostri qua sotto e mi stanno fracassando l'anima che scocciatura perché giustamente non posso fuggire dal combattimento non posso fuggire proviamo a correre tanto e vediamo che succede va andiamo andiamo vediamo che succede tanto ripristiamo salute che cosa che alba è un ifredil qui non ci serve a niente purtroppo siamo riusciti un pochettino a liberarci alla fine degli inseguitori però a questo punto allora continua a piedi tanto è più vicino di quanto di quanto appariva inizialmente quindi andiamo alla missione a piedi eccoci qua mazza che salita che ha fatto incredibile completamente irrealistica andiamo facciamo fuori il comandante principale qui oggi è toccato a me gaming edition saltare il pranzo si dici benissimo ti saluto anche tra l'altro su quel console sto su ps4 ragazzi non c'è un cavolo per muoversi si ci sono i calagor non mi chiedete perché qua aiutatemi voi perché vi ho detto che sono le prime ore di gioco per chi tipo Ergut che ci sta giocando tantissimo perché ancora non li posso cavalcare non so per quale strano motivo ah vedi ci sono i calagor ma devi trovarli è un film si è un super film questo Iago sei stato la vicesta? c'era? c'era? eccoci qua adesso qua secondo me si combatte e ci si diverte eh abbiamo scapolato la prima ora eh tra l'altro volata veramente quasi quasi adesso mi faccio una bella grappotta qua a stomaco vuoto tra l'altro se non ricordo male avevo anche la pasta come primo quindi sarà una cosa mostruosa quando avrò finito questa pausa caffè ora che ci penso chi l'avrebbe detto? vi ricordo no questa pausa caffè questo pranzo con vi ricordo tra l'altro che appena finisce questo pranzo con tempo 5 minuti tempi tecnici e parte la pausa caffè eh ragazzi quindi veramente oggi è una giornatona di tutto il giorno con noi Mordor è come un parco giochi di divertimenti a che livello di rigiocabilità? mi chiede Marcus Gin che saluto secondo me bassa la rigiocabilità se dovessi fare una valutazione mia per quello che ho giocato un po' come tutti i free roaming nel senso che rigiocarlo secondo me no però secondo me quello che invece funziona è col fatto che anche quando lo finisci in verità probabilmente avrai ancora un botto di roba da fare e quindi è stimolante più che altro nel senso che quello che puoi fare è che lo hai finito e poi continui a fare tutte le missioncine secondarie divertenti diciamo questo secondo me è una cosa che spinge non è una rigiocabilità però sicuramente è una grande longevità vediamo un po' come farlo fuori con un uccisione d'appiglio ecco qui uno in meno il piccolo genio del male si era messo ovviamente in pizzo adesso noi cerchiamo di tirare anche l'altro vediamo se ci entra mi sa di no è troppo carino sto giochetto che esagerazione mi stavo per far sgammare ma sono riuscito a non farmi sgammare devo ritornare alla piattaforma di addestramento che è questa tra l'altro sono riuscito a non farmi stavo per farmi sgammare ma sono riuscito a non farmi sgammare vedete ah no quello sotto mi sta porca troia speravo di non essermi fatto sgammare ma in verità col cazzo come si suol dire per essere fini ed educati è arrivato l'altro gemello questo è arrivato il super comandante quello proprio incazzatissimo questo qui e qua c'è da divertirci secondo me allora prima cosa che è una cosa interessante che è da fare adesso vi faccio vedere è fare così andiamo a vedere l'esercito di sauron intanto lui l'altro gemello qui come si chiama quali sono i punti forza e i punti debolezza colpi di grazia di combattimento che ci permette di ferirlo attacchi a distanza funziona bene quindi anche con le attacchi a distanza invece ha odio per la sua si inferocisce quando viene attaccata alla sua guardia del corpo si inferocisce alla vista dei cargo balza lontano quando colpisce l'arma è infuocata più difficile da uccidere non può essere terrorizzato non fugge mai è un po' tipo Jacopo da noi non può essere terrorizzato e non fugge mai tra l'altro sto per far scattare anche un super allarme porca troia che sveglia che mi ha tirato oh certo sono sempre pronto a morire io adesso di silicon prima di attaccare porca miseria bel colpo mi ha tirato un amico frizzo questa la vedo abbastanza incattiva questa qui eh ragazzi abbastanza cattiveria bisogna stare attenti sempre agli arcieri perchè sono i più micidiali perchè vi colpiscono da lontano eh vabbè questo si mette un po' male un po' tanto però infatti sto per morire io già lo so che starò per morire eh si ci siamo ecco qui la mia morte è arriva anche perchè adesso il colpo sarà velocissimo oh sono riuscito ancora a evitarlo non so come ho fatto madonna ma quanti cazzo sono wow un numero infinito di nemici come potete vedere vabbè ho capito però sono proprio stupido eh e sono morto in automatico riproviamo scusate per l'idiozia ma qua ho fatto proprio una cretinata ho fatto suonare l'allarme ho proprio ne ho fatto ne ho fatte violente ne ho fatte qua eh ho detto che voglio riprovare ragazzo devo avere la skill apposta ma io sono convinto di averla comprata però beh colpisci l'esca pesa abbiamo già fatto per attirare ah giusto posso colpire l'esca per attirare i calagor quindi in questo modo creare un po' di fastidio vabbè si è già mai detto tutta sta filippica dai è arrivato mi piace il passaggio che è stato da prima che erano 555 mila nemici adesso che invece non ce ne sta più nessuno adesso poi mi ha bloccato l'esecuzione bene no bastardo e dai questi sono micidiali i tizi sono micidiali questi tizi cicciabomboli sono proprio cattivi sarola morto ho fatto una bella fatality finale da un centimetro e ci siamo giocati anche l'altro gemello che tra l'altro secondo me andava solo ucciso spero che non andava interrogato però l'abbiamo fatto fuori questa volta ho giocato un po' meglio eh jones jones avevo la pasta oggi è una semplicissima pasta al sugo delle tagliatelle semplicemente al sugo molto stupida avevo oggi molto molto stupida adesso faranno cagare all'infinito the greek freak mi chiede quanto sono vecchio tanto in inglese me lo chiede tanto tanto e lot e lot the greek freak e lot e lot old eh lo so che vuole teste da grey fox mi continua a chiedere delle decapitazioni dai cerco di fare il possibile ma cerca di metterne un po' un po' in mezzo va gaming addiction quanto tempo si può rimanere appesi al bordo all'infinito all'infinito proprio però come al solito come dice giusto intergood se ti vedono i nemici ti cominciano a lanciare la roba come capita in assassin's kid e se ti beccano cadi non ci scappi vedo assolutamente un futuro per la serie alla grande alla grandissima secondo me non diventerà batman annuale ma secondo me sarà super potente avete visto alla fine ratbag è diventato comandante a tutti gli effetti lo abbiamo reso meglio di così si muore e uno abbiamo fatto intanto fuori uno dei quattro comandanti che è il macro obiettivo diciamo di tutto quanto tra l'altro abbiamo guadagnato talmente tanto potere come avete visto da sbloccare la seconda linea di potenziamenti quindi prima cosa andiamo a vedere l'esercito di sauron e come vedete qui sopra c'è quello no quello mio praticamente ratbag il codardo quindi questa cosa me lo rende abbastanza mio adesso potremo andare a vedere ecco la guardia del corpo così da sgamare dove sono gli altri comandanti vedete se io faccio fuori questo capitano qua posso risalire a dove chiacchio è l'altro andiamo invece a già che ci siamo a poter armi e rune ho sbloccato altre rune non credo ah si ho sbloccato un'ulteriore runa quindi compriamo potenziamo ultimamente la spada con un altro slot di rune non credo che compaia sauron nel gioco se non all'inizio giusto nella sequenza introduttiva è stop questa recupera appieno la concentrazione dei proiettili elfici quando un'ultima opportunità riesce quindi ci stiamo super potenziando potenziamenti nuovo livello eccolo qui adesso ho il secondo livello sbloccato la lampo spettrale tra l'altro automatico come avete visto perché me l'ha dato lui in automatico allora serie di colpi caricata ogni 8 colpi consecutivi in pratica la spada inizia a brillare allora si può fare o l'uccisione quella cattivissima oppure si può fare questo lampo spettrale lo vedete c'era ecco ce l'ho l'abilità premi r1 per saltare in croppa a un karagor dall'alto non l'ho mai fatto non so come mai non ci ho mai fatto caso a questa cosa qua vediamo che altro c'era una volta caricata la tua serie di colpi anche qua posso fare il giustiziarlo andiamo a vedere un po' di abilità extra raddoppia vantaggi della serie di colpi no possiamo andare a vedere colpo di grazia all'ultima opportunità la capacità di sferrare un colpo di grazia in una lotta all'ultima opportunità figo questo qui non è male questo non posso farlo perché non ho sbloccato posso lanciare i pugnali posso l'uccisione furtiva spaventosa che fa fuggire nemici vicini in preda al panico accresce la serie di colpi non è male anche questa questa è molto figa questa anche non la posso fare perché fa parte della cosa gli attacchi con l'arco mirate le gambe lo inchiodano sul posto simpatica prosciugo in furtività quindi vedete quello che succede posso prosciugarlo mentre sono da dietro praticamente in questo modo quindi farlo scappare anche questo non lo posso fare direi che è carina la violenza la spegniamo quindi questa qui che mi piaceva e anche che è il colpo di grazia intanto ce li prendiamo questi che ci piacciono e andiamo avanti a questo punto faccio un attimo di sessioni di domande ragazzi andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere sei un po' lento tu o il personaggio sono lento io per rispondere a Silar nel combattimento di prima l'elfo con l'arco per rispondere a Murdor si chiama Celebrimbor scritto Celebrimbor però in elfico non si legge il Ce ma si legge il Che ah esatto poi vedete giustamente mi segnalava che ci sono appunto i nemici che vanno a suonare gli allarmi che andrebbero fatti fuori magari con un bel colpo di frecce in modo che evitano di suonare l'allarme e di farmele diventare 500.000 andiamo avanti ci sta l'Egolas non credo che ci siano i personaggi principali del film se devo essere sincero non credo proprio poi c'è questa domanda un po' critica un po' top di Dagon X che ci dice che il 9.2 implica che si tratti di un giocone se siamo stati condizionati dal Nemesis System ma non è che il Nemesis System ci ha condizionato cioè c'era il Nemesis System e siamo diventati condizionati da questo fatto è un po' una valutazione un po' estrema sicuramente il Nemesis System aggiunge valore al gioco cioè più così secondo me il concetto cioè grazie al Nemesis System il gioco è ancora più interessante questo concorre a un miglioramento del voto perché comunque come avete visto funziona veramente bene il Nemesis System cioè aggiunge veramente tanto al gioco poi non è che ci ha condizionato il voto perché c'è il Nemesis System allora gli diamo di più cioè che il Nemesis System aiuta la qualità del titolo andiamo a sbloccare una nuova torre e poi ci mettiamo a fare un altro po' di un altro po' di missioncine principali sono rimaste quelle due Gollum o il Capitano io direi di farci un altro pezzo di Gollum abbiamo come al solito il tizio tiro che mi sta inseguendo no ha già smesso di inseguirmi no no mi sta inseguendo altro che che abbiamo preso qua mamma mia che rompipalle questi poi questi si riescono a far fuori praticamente quasi solo con l'arco uno eccolo mamma mia che colpo incredibile di violenza andiamo avanti sto trascurando tutte le missioni secondarie perché se non ricordo male se non sbaglio li ha fatte tutte il buonissimo il nostro top Stefano andiamo avanti ancora a raccogliere ma qua continuo a raccogliere il Gwin Wai non riesco a trovare un po' di erba pipa purtroppo io speravo di trovare dell'erba pipa e invece sta erba pipa non si fa trovare vediamo se questo è un po' di erba pipa pan di terra niente proprio ci hanno deciso che l'erba pipa non fa per noi devo cercare di arrivare la torre senza chiamare 65 nemici vediamo se riesco a far fuori vediamo ok abbiamo fatto abbiamo sbloccato anche un po' di resistenza qua quindi è una missione aggiuntiva in pratica che abbiamo sbloccato ma noi andiamo avanti perché io voglio arrivare alla torre non mollare mai non mollare mai non mollare mai se mi dica non mollare mai ramingo a me fa sempre rite questo non mollare mai ramingo non mi fa risponde va cos'è quello andiamo a forgiare quest'altra torre e hop vai assassino vai altair cosa non mi sta piacendo mi chiede endymake zero per ora in realtà nulla che non mi sta piacendo proprio assolutamente per ora mi sta piacendo tutto classica meccanica da free roaming che ho detto può essere quella che piace o non piace ma è quella classica dei free roaming mi sta piacendo abbastanza tutto se devo essere sincero non ci sono elementi che non mi stanno convincendo in questo frangente andiamo a farci sgammare ma che idiota veramente l'unica cosa veramente che non mi piace ma che questo è tipico come al solito anche dei free roaming che anche a sansins kid ne soffre un pochettino la gestione della navigazione tra piglie vedete questa cosa a me fa troppo cioè io sono qui a me questa cosa mi fa veramente venire le madonnine io sono qui sopra il fatto che io per scendere giù se tengo premuto quello che fa è fare sta cosa invece di scendermi giù mi da veramente fastidio dovrebbe essere automatico però giustamente bisognerebbe farlo tenendo premuto il cerchio perché il cerchio è quello per scendere però sta cosa mi da un po' fastidio nella navigazione è una cosa un po' tipica do lezioni di elfico mi chiede gaming addiction no so giusto le basi va da grande lettore del silmarillion la storia della trame del signore degli anelli non è presente è super 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 laterale diciamo rispetto al gioco quindi è come se cioè non bisogna assolutamente conoscere per forza il signore degli anelli né giocare il gioco aggiunge chissà quanto ha l'universo del signore degli anelli come è giusto che sia tra l'altro si ne ho fatte pochissime queste secondarie ragazzi è proprio una scelta come vi ho detto sto facendo soltanto le principali perché è stato Stefano a concentrarsi invece su le quest secondarie in questo modo abbiamo dato anche un po' di varietà ai long play visto che ne abbiamo fatti tantissimi almeno cioè chi assegue questo vede il gioco principale e chi segue quell'altro vede l'altro gioco vede le missioni secondarie che si possono fare appunto almeno diamo un po' di alternativa dobbiamo seguire le tracce no? come vedete le tracce di di Gollum fondamentalmente che ha lasciato le tracce che ha lasciato Gollum queste torri non furono costruite dallo scuro signore ma contro di lui non furono costruite dallo scuro signore sepolte nell'ombra andiamo avanti andiamo avanti eccolo qui guarda che giro che mi ha fatto fare per cercare di non essere sgamato da tutti i nemici che ci sono in giro andiamo si corre con la X naturalmente e si può anche correre in modalità stealth tenendo premuto il grilletto destro una domanda sola quanto fai ancora? quanto faccio con un litro? si con un litro faccio si fino a meno 20 meno un quarto si ah si e allora andiamo avanti mentre vediamo questo combattimento di una cattiva vita vediamo vediamo Brian Marshall mi chiede quali saranno i limiti della versione old gen sicuramente l'orizzonte visivo sarà dimezzato un po' come avviene anche per esempio con Destiny e ovviamente la qualità dei modelli è indubbio che un modello del genere sarebbe impossibile farlo non ho idea che cosa bisogna fare per farlo fuori non ho mica capito se devo essere sincero tieni premuto per entrare in una modalità a distanza l'ho fatto premere i due ah per coprire l'esca e attirare i caragon attacco questo distrarrà il graug per un po' distrarrà per un po' ma non mi sei ah no ok ecco così possiamo cercare di entrare vedete ho 12 secondi prima che lui si incazzi mi ribecchi per entrare nella caverna senza farmi sgammare vediamo quanto tempo ah sarò lentissimo sono stato forse ce l'abbiamo fatta infatti ce l'abbiamo fatta no non ce l'abbiamo mazza che che tristezza proprio per un secondo riproviamo vediamo un po' riproviamo riproviamo a fare questa ah no è già come se mi avessi fatto il coso vediamo di correre un po' di più adesso mazza quanto sei lento talion qui la morte ammorba l'aria ecco qui la morte ammorba l'aria andiamo dobbiamo cercare la tanna del kraug quindi continuiamo con questa cosa che ghoul la cosa non mi sorprende tanto è brutto ghoul veramente cioè talmente sono abituato a chiamarli ghoul che è ghoul però mi sembra in cool sembra più che ghoul veramente proprio brutto andiamo avanti andiamo avanti qualcuno secondo me che sta ritornando indietro è un po' incazzato eh si e ora è pronto per un altro il cool qua ah vedete ho preso il lotrond quindi sfida di sopravvivenza quasi sbloccata devo trovare giusto i due le due erbe pipe ci fumiamo stiamo a posto perché parla con questo modo non ce la facciamo dai ritroviamo sto manufatto delle madonna ma quanto va in giro va gollum sembra veramente vi dico intanto faccio fuori sti cazzo di ragnetti tac uno in meno almeno ce lo siamo fatti fuori visto ogni volta non riesco mai a ammazzare sti ragnetti beceri quanto odio ecco mi manca soltanto un dannato ultimo ragnetto così abbiamo finito pure la sfida di caccia già che ci stiamo vediamo se lo vediamo un altro ragnetto mertosissimo mertosissimo è questo il coso no però c'è un ragnetto c'è un ragnetto maledetto un ragnetto maledetto e opp eccolo qui sfida di caccia completata avete visto ho fatto la sfida di caccia 1 così ho sbloccato praticamente qualche cosa e adesso la nuova sfida ecco una bella ricompensa adesso è far fuori 100 creature volanti 5 creature volanti ma lo faremo in un altro momento adesso andiamo a cercare mi sa che è quello là sopra il manufatto andiamo a vedere poi faccio un altro po' di domande non mi dimentico di voi ragazzi ammazza che giro inutile che ho fatto che giro veramente inutile eccolo lì sopra dai che è questo il manufatto tac ma sa come si incazza ogni volta che prende sti manufatti sti visioni effetti climatici chiede solstafir come sono mediocre mi ricordo solo di un po' di grande pioggia ma nulla di estremo ricordiamo che stiamo girando assolutamente stiamo facendo no se non sbaglio mi sa che questo long play è a 720p non a 1080p se non ricordo male giusto? è a 720p questo long play non a 1080p giusto? non ti ricordi? non ce lo ricordiamo dalla regia credo sia a 720p per questo forse non notate grandissime differenze anche se mettete il source ma sicuramente rispetto alla versione PC ci sono delle differenze eh non ci sono più spade per rispondere ad albi no le spade l'arco le frecce scusa le frecce e il pugnale sono quelli fissi punto chocks aerosocks ci sono le mount si calagor si possono montare dall'alto pressione R1 ci si finisce sopra e si cavalcano però bisogna sbloccare l'abilità per poterlo fare come mi hanno consigliato mi hanno suggerito eh lo dico non lo sapevo io andiamo ancora avanti andiamo ancora avanti continua questo demonic blood flow che continua a dire questo end boss dies from 3 hits che perché continua a dire questa cosa non ha senso andiamo 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 vediamo grande mazzazelle che segui la diretta dal lavoro sei un campione mi piace questa cosa un po' trafugata mi piace sempre moltissimo ah mo devo pure fuggire porca miseria che risate colpo ombra premuto L2 e X per trasportarmi immediatamente alla posizione del bersaglio consuma due proiettili elfici ok andiamo va prendiamo ah non posso prendere l'attack vedete posso fare con questo colpo ombra bram vedete questo è un buon modo per scappare senza farsi beccare dall'amico fritz naturalmente come avete avrete già capito è ovviamente l'unico modo che ho per riuscire a fuggire dalla caverna appunto senza farmi massacrare l'anima vediamo quante centinaia di volte morirò probabilmente migliaia non centinaia a parte con milioni di persone dietro alle spalle e qua ha fatto la gran cazzata vai Pierpaolo con la cazzata del giorno ma quanti sono 1080 ci suggeriscono dalla regia e per questa cosa grazie Ale quindi a 1080 allora se mettete su source dovreste effettivamente vedere un po' di differenze mazza è stato un fulmine non pensavo esatto dice benissimo free edition le sfide di raccolta erba e caccia proprio come Red Dead Redemption assolutamente lo stesso concetto per bradagnare un po' di soldi sono quelle cose che io veramente non riesco mai a fare in questi tipi di free roaming mi fanno venire una noia di potenza incredibile proprio grey fox dice che media ha già rotto il day one quindi chi di voi ha prenotato su media oggi lo può andare a ritirare che cosa terrificante marcus gene gameplay migliore rispetto ai vari batman allora sicuramente più free roaming meglio amalgamato rispetto ai batman specie i primi rispetto all'ultimissimo di batman è un po' meglio amalgamato la parte di missione rispetto alla parte di free roaming il combattimento qui mi piace di più per quel discorso che vi dicevo prima della gestione degli atterramenti cioè dei nemici che sono a terra di come effettivamente bisogna fare la finish possiamo dire è meglio amalgamata perché intanto gli altri vi possono colpire quindi dovete utilizzare il giusto dovete essere sincronizzati in modo corretto insomma dovete gestire adeguatamente il combattimento quindi forse si funziona da questo punto di vista è un po' meglio che risate Dagono gli dice sono io il tuo capo mazzazel sei licenziato farebbe ridere però mazzazel se anche il tuo capo sta seguendo la diretta non è affatto male non è come cosa andiamo potenziamenti vediamo visto che ho sbloccato non ho sbloccato un cacchio perché alla fine me l'ha dato in automatico quindi però facciamo anche il colpo critico effettivamente può essere interessante per combattere meglio possiamo sbloccare qualcos'altro no perché questo perché non ho abbastanza mitril questo aumento concentrazione massima non c'è frica nulla ma aumentiamo i proiettili si può essere utile quindi più proiettili elfici come avete visto si cominciano a utilizzare per un po' più di roba quindi ritorniamo intanto mi scelgo un capitano da tenere sott'occhio perché effettivamente può aver senso tenere un capitano sott'occhio teniamo ratlug come avete visto a seconda di quello che sono riuscito a fare nel territorio se vedete alcuni ho l'ubicazione precisa del capitano in altri come in questo caso non ho l'ubicazione precisa lo devo prima trovare siccome so che però sta in questo territorio dove sono io intanto me lo me lo contrassegno intanto anche se questo è inutile perché non ha neanche padrone poi lo devo andare a cercare quindi adesso cerchiamo cerchiamo di cercarlo prima di tutto vado un po' alto che sicuramente mi aiuta e poi lo cerchiamo poi torno a fare un'altra missione principale ragazzi intanto abbiamo ancora un bel po' di tempo quindi vediamo se riesco a trovare così volevo far fuori un altro capitano vediamo quello è lui che sta lì giù incazzatissimo non ne vedo non lo vedo ancora non lo vedo ancora incredibile pensavo ci fosse qualche parte ma invece non ce sta allora dovremmo andare ancora più su mamma questa è veramente la cosa più irrealistica del mondo tuffarsi di testa sui mattoni non lo smetterò mai di dire tuffarsi di testa sulle pietre veramente non mi dà alcun senso per quanto puoi essere immortale veramente non capisco perché dovrei cioè è proprio anti intuitivo fare quel tipo di tuffo vediamo più in alto non si può incredibile non si riesce a trovare eccolo lì eccolo abbiamo trovato il capitano lo marchiamo e adesso possiamo cercare di farlo fuori adesso tanto facciamo fuori no sbagliato facciamo fuori amico frizz e hop gola tagliata non mi piace un altro fatto fuori prima che potesse chiamare qualsiasi tipo di allarme dai cerchiamo di arrivare sopra che vorrei cercare di arrivare al capitano senza farmi troppo beccare o sentire a parte ce ne sono un milione lì ma cos'è basta una banchetta proprio dai ciccio salsiccio tirati su mamma mia proviamo a fare una mossa paracola vediamo facendo così bella questa mi è piaciuta tantissimo eccolo qui rush tempesta di sangue cos'è successo ah no paura dei karagor ah lui ha paura dei karagor giustamente che sono arrivati qui bellissima questa cosa di lui che è spaventato dai karagor lo volevo decapitare praticamente grazie alla paura l'ho fatto fuori in un istante da solo proprio con una semplicità incredibile è arrivato un altro ah questo era il cattivo che avevo scelto tra l'altro ma che ci penso quindi adesso è subentrato anche lui di cui però non conosco i punti deboli siamo qua c'è c'è veramente un gran combattimento in mezzo qua c'è un rischio di morire in un attimo che la metà basta io direi che per non saperne leggere né scrivere io me ne salgo sopra hop 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 e mi guado lo spettacolo dall'alto addirittura forse potrei vediamo vediamo eccolo qui tac guardate che bella mossa si faccio vedere anche la cavalcatura visto che me la continuavate a chiedere prima lo devo dominare che è un po' quello che faccio sempre anche con Jacopo anche in questo caso eccolo qui dominato lui sta incazzatissimo perché l'ho sconfitto vediamo un po' che riusciamo a fare attacchiamo è già buono non sto facendo nulla stanno morendo tutti da soli grazie Cargor vedete attacchi con il quadrato mordi per uccidere quelli a terra praticamente e posso anche colpire da lontano praticamente per fare per fare per fare del gran casino intanto Cargat è il distruttore qua è morto grazie a un mozzico su un piede praticamente adesso cerchiamo di far fuori quest'altro Cargor vediamo uno e due e questo ce lo siamo fatti fuori rimangono amichevoli dopo essere state smontate quindi smontiamo di sella rimane amichevole prendiamo le due rune che alla fine avendo fatto fuori due capitano capitano capitani ho sbloccato ecco qui vi voglio far vedere cosa succede quando volete far fuori un vi siete stufati della questione voglio farvi vedere cosa succede questa cosa qui lo posso fondamentalmente uccidere ah no non pensavo di uccidere invece no ah no gli levo giustamente gli levo l'energia per poterla guadagnare io come avete visto la seconda striscetta è quella sua in pratica ritorniamo direi che possiamo ritornare se abbiamo fatto fuori un po' di comandanti ritorniamo con le missioni principali tanto una me ne è rimasta e poi qui ci fermiamo che ci siamo quasi tanto selezioniamo mi metto comunque un capitano perché ritorniamo sull'esercito di Sauron che voglio far vedere visto le ultime novità vedete questo è fatto fuori tendenzialmente quello che succede è che quando fate fuori un capitano dopo un po' uno nuovo lo sostituisce questo è quello che solitamente accade andiamo scusate vi faccio un po' di altre domande 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 si non è sempre così bello lavorare per multiplayer adesso sto vedendo il dibattito che è partito da Fabio Nutz non vi credete che siamo qua tutto il giorno a giocare anzi anzi Ergut no le altre modalità di gioco non le ho provate sto solo qui all'inizio andiamo andiamo bella domanda Freedition a che serve la data di uscita se poi tutti rompono il day one pensate a noi quanto ci fa girare il cazzo la cosa che spesso abbiamo gli embarghi delle recensioni in day one e fa succedere quelle cose assurde che la gente ha il gioco prima che noi possiamo uscire con la recensione quindi ce ne sta andiamo andiamo avanti non vedo cumuli di paglia a far ridere questa cosa della paglia fa sempre lidere allora niente andiamo avanti ho visto non avete fatto queste grandi domande ma state chiacchierando tra di voi la cosa è sempre molto bella io mi marchio anzi no fammi vedere lui dove sta lo vedete se c'è qualcuno che ha la guardia del corpo in modo tale da poterlo cercare e poter arrivare al comandante questo però non so precisamente dove sta quindi me lo marchio ma non sappiamo ancora dove sta con precisione ritorniamo a noi e andiamo a fare quest'ultima missione prima di ah non può ah si dice che cacchio non può scendere veramente mi è celebrato vedete questo è il classico passaggio il classico modo per dirti ah devi arrivarci da solo bel modo furbetto dei dei giochi ecco qui con questa mossa arriviamo da sole e iniziamo facciamo quest'ultima missione vai poi finiamo qui vediamo un po' quanto è lunga se la riusciamo a fare tranquilla va ciao wonder boy bel saluto anche a te un saluto di nuovo a tutti voi ragazzi che state qui seguendo questo a pranzo con che spavento che battutona mamma mia vedete alla fine i modelli un po' mi interessa mi interessa solo ciò che ci condurrà alla mano nera vai che la mano frizzi l'amico frizzi si sta sciacquando in una bacinella piena di niente si vede che c'è del del fastidio fra loro due eh dai queste cose qui inutili questi segui questa è proprio una di quelle invenzioni di assassin's creed che hanno proprio rotto il cazzo nei giochi per dire anche questo in modo molto educato questa cosa del segui automatico che io non sto facendo niente ma poi ogni tanto arriva l'appiglio che io devo scalare è veramente fastidioso come cosa io mi occuperò degli uruk ah Ergot ci dice questa è carina si da DoDevil uscirà un videoconfronto tra tutte le versioni assolutamente cercheremo di farlo prima per le versioni next gen e pc in un secondo momento quando arriveranno le versioni old gen lo aggiorneremo con anche le differenze delle versioni old gen oh chi ha iniziato a correre non me ne ero accorto sto vedendo le vostre domande e stavo per rimanere indietro tutto insieme che ha fatto messo il pepetto al sedere andiamo andiamo guarda come è bravo a curvare l'amico frizz bravo spero per te che sia vero Yergon andiamo Yergon quanto corri lento amico mio però poi mi fa sempre ridere pensare a questa gente che succede che ha fatto raccogli le erbe per il veleno devo andare a raccogliere queste erbe per il veleno ma non è quella evidentemente l'erba che dovrò accogliere per il veleno mi sembra abbastanza evidente eccola laggiù sarà quella sicuramente senza farmi sgamare naturalmente bravo coglione ma certo sono veramente un coglione mamma mia quanto sono idiota veramente ma perché sono così idiota la liconcina alla sprinter cell mi fa sempre anche molto ridere tutti insieme vai Yergon sta subendo l'arma ma perché è così idiota vabbè vediamo un po' anche qui come funziona raccogliamo tutte le erbe mentre lui sta subendo dei danni tanto a noi non ce ne fremo un cazzo di Yergon che subisce i danni vabbè dai mi dispiace mi dispiace per lui dai dai ti è andata la mano Yergon fangala va ho pure bloccato l'uccisione non riesco più a decapitarli non so per quale strano motivo ragazzi non riesco più a decapitarli mi dispiace per questa cosa ma non c'ho più verso di decapitarli dov'è sta terza erba eccola qua giù amico frizza che si fa due passetti ancora altre piante non c'è bastata sta cosa mi fa tutta sta tiriterra per andare a raccogliere poi altre piante dove hai trovato la polvere esplosiva l'ho comprata da un nano iracondo si per rispondere a pozive a pozive si a unity quando lo vedi al vivo comunque su pc è veramente un grande stacco più che altro quello che spaventa è l'orizzonte visivo veramente sembra sterminato quando lo inizi a vedere veramente cioè proprio colpisce proprio come orizzonte visivo veramente tanto come fanno a non vederci dai ai videogiochi videogiochi quante per fortuna che nella nostra vita non ci serve andare in giro senza farci beccare dal nemico altrimenti ci mazzerebbero tutti cioè basta che passi accucciato un centimetro da uno e non ti vede fa sempre molto ridere come cosa andiamo dai questa camminata lenta mamma mia lento lento è tutto lento due diodi accucciati a mordor perfino i fiori sono letali ci sono cose molto peggiori dei fiori qua giù che dialoghi che dialoghi che incute che incute terrore dai un'altra volta prima ero di quarti e mi sentivo osservato secondo me quella creatura che il mago che ha visto è tornata grande porca troia mortale questo amico e crepa come sta assumendo i danni ma proprio stupido Irgon ma io non lo so ma stai uno contro uno e neanche così riesci a ammazzare qualcuno mamma mia Irgon ma veramente ma cioè hai un problema gravissimo vabbè ma Irgon veramente sembra come sta gioca con te Jacopo cioè veramente cioè immagino te se andassimo in combattimento insieme tu sei lì fermo a farti uccidere no effettivamente tu saresti più quelli là da stupro e razzia secondo me Jacopo ancora se andiamo Irgon e ci porti a vedere altre belle piantine sicuramente sì i sottotitoli sono presenti per rispondere a The Cerberus li puoi attivare tranquillamente però come detto è tutto in italiano cioè qui non puoi scegliere di mettere un'altra lingua eh adesso sbloccabilità basta 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 ritorniamo voglio ritornare gioco mi è venuto in mente che effettivamente per decapitare devo prima prenderli in ostaggio e poi decapitarli effettivamente che è una cosa che io non faccio mai però è quello il modo giusto facciamo hop e poi hop mi piace vedere che fa queste sono tutte automatiche tenendo premuto X al solito mentre corre su un ostacolo lì da solo fa queste mosse che nessuno farebbe mai nella vita reale andiamo avanti questa grande corsa belli tutti pieni di armature come ci piace a noi dai ancora abbiamo quasi tutto il veleno necessario sono impaziente di vederne gli effetti da vicino eh grande impazienza anch'io perché mo dopo mi fa tutta sta deridera mo mi sta venire la curiosità di capire che cazzo ci serve tutto sto veleno perché altrimenti chiaramente lo sta due dobbiamo trovare il terzo veleno dov'è il terzo velenino terzo veleno veleno dov'è la terza foglietta uff dai ma sono cieco io o manca una terza mi sa sono cieco io probabilmente it's incredible non riesco a trovare la terza cosa di veleno sembro più eccola lascio guardate un bastardi come stava nascosta fastidiosissima questa visuale dell'acola che non funziona sempre non funziona dietro i muri ancora mamma mia namo irgon questo dovrebbe bastare ora devi solo avvelenare il grog non sentiranno l'odore del veleno no ma se ti vedono dubito che lo verrà mi sto seguendo intanto e i muri si trovano al cancello principale devil within inizieremo a lavorare per rispondere a ardesia quando ci arriverà che è la prima condizione fondamentale per poter lavorare il gioco faremo una super diretta su Assassin's Creed Unity ci chiede Marcus Jean c'è da chiederlo assolutamente ovvio va bene andiamo a velenare questi cavolo di barili barilosi mi devo prima intrufolare tra l'altro chi è che già mi sta vedendo ah ragione giustamente ciccio che resta bella freccia in testa va andiamo ad avvelenare i barirotti va continua a non capire quali sono i bariri no chi è che mi sta vedendo grandi risate quasi prendevo fuoco l'altro giorno questo fa sempre molto ridere a me le super mosche mi fanno sempre molto ridere cerchiamo di capire come facciamo sempre sta cazzata eh ma quanto cazzo stanno lontani sti barili sti barili no che idiozia infinita mentre ogni volta proprio l'uomo dell'idiozia ogni tanto quando faccio sti saltini eh mi penso sempre che adesso si metterà cos'è stato non è stato niente sta tranquilla adesso muori tanto dai rilassa ci siamo quasi ragazzi uno già lo vedo qua sotto dovrebbe non esserci nessuno tra l'altro quindi forse ce la facciamo vedete che fa questa cosa in automatico per forza che brucia così bene ho visto qualcosa ho visto qualcosa non mi devo far sgamare vediamo se riusciamo a non farsi è tutto un qualcosa eh eh vabbè questa questa è un po' eccessiva non farsi sgamare allora come abbiamo visto mi sono fatto beccare io direi che ci siamo fondamentalmente con i tempi si quindi eh qui facciamo comunque un riprovo lo lasciamo qui su riprova allora questa pranzo con fondamentalmente finisce qua vi do gli ultimi due secondi rispondo alle ultime domandine che mi sono arrivate vediamo vediamo andiamo a vedere se ci sono la visuale dell'aquila mi è venuto automatico eh vediamo vediamo posso chiederti perché Unity l'hanno rimandato eh avere la sfera di cristallo nonostante la testa non ce l'ho quindi purtroppo non ne ho idea credo che da quanto abbiamo visto veramente ha bisogno fino all'ultimo giorno per essere pulito un po' come è successo con FIFA credo molto che questo Assassin's Creed abbia molto rischio di essere di uscire un po' buggato se non correggono fino all'ultimo secondo quindi probabilmente hanno approfittato di quelle settimane in più per farlo il più pulito possibile andiamo a vedere se ci sta qualcos'altro 9.2 è troppo chiede DPM giocalo e poi ne discutiamo potresti avere perfettamente ragione c'è per esempio Free Edition che dice che gli avrebbe dato addirittura 9.8 quindi direi che ci siamo allora a questo punto è possibile chiede Ahi Velasquez se è possibile giocare tutte le missioni principali qualche secondaria sbloccare tutte le abilità non credo perché sia il Mithril che serve per sbloccare i potenziamenti praticamente quindi l'energia maggiore le frecce maggiore e tutto quanto questa roba si paga in Mithril e il Mithril si guadagna quasi solo con le missioni secondarie quindi direi che non ce la fai sbloccare tutto e tra l'altro le missioni secondarie servono per guadagnare esperienze e per poter quindi avere i punti abilitati le principali servono per avere il potere come avete visto le abilità funzionano in tire totto potere serve a sbloccare le abilità del tire della linea superiore quindi è un buon miscuglio per riuscire a fare tutto a questo punto fra neanche 10 minuti pausa caffè sempre qui sopra su twitch o su multiplayer.it slash diretta grazie per averci seguito non so se da dire o si c'è il buon Jacopo alla prossima pranzo con 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 martedì prossimo ciao ciao